Il Pescara batte il Grosseto e accede al terzo turno di Coppa Italia, dove attende la vincente di Teramo Siena. Centrato l'obiettivo qualificazione, ma anche quello di vedere all'opera chi era stato meno utilizzato. Out Memusciai, Rauti e Marilungo, auteri da spazio a otto calciatori con poco minutaggio ufficiale, davanti al Baby Sorrentino, Ianes, Ingrosso e Veroli, trio di difesa, Rizzo e Diambò sono i mediani, in attacco ci sono Ferrari e Galano, fascia di capitano per quest'ultimo. Dursi, Zita e Zappella completano lo schieramento, anche il tecnico grossetano Magrini si affida alle presunte seconde linee, ma non rinuncia all'esperienza di Ciolli e a Moscati, autore di una doppietta nel turno precedente col Campobasso, e che già prima del quarto d'ora saggia le qualità di Sorrentino, che risponde presente. Accade poco fino alla mezz'ora, quando il Grosseto si rifa vivo con un'azione di rimessa, De Silvestro per Moscati, ma è felina l'uscita bassa di Sorrentino. I biancazzurri al piccolo trotto si scuotono e chiudono forte la prima frazione, Zappella crossa col sinistro per il colpo di testa di Dursi a fil di palo. Dopo un minuto Ferrari serve la corrente Nzità, che calcia dalla sua posizione preferita, ma addosso a Fallani. Al trentanovesimo il Pescara passa, Dursi premia la corsa del solito puntuale Nzità, perfetto l'assist da quinto a quinto per Zappella, che insacca da pochi passi. Per il match winner contro l'Ancona Materica arriva il secondo gol stagionale, il primo in Coppa. Una rete che non sazia il Pescara, che continua a spingere, Zappella per Dursi, ma Fallani blocca. L'estremo Marebano è poi salvato al 45esimo da Artioli sul colpo di testa di Ianes, destinato in fondo al sacco. Dopo l'intervallo Auteri cambia i due esterni, fuori Nzità e Zappella, dentro Cancellotti e Rasi, e proprio quest'ultimo è protagonista nell'azione del raddoppio. Al sesto minuto Fallani respinge il sinistro di Rasi, ma nulla può sul destro potente di Eugenio Dursi, che trova la sua prima rete ufficiale in maglia pescarese e si lascia alle spalle il torto subito domenica scorsa. Magrini mette dentro i titolari, Cretella, Marigosu, Signega e Raimo, mentre Auteri regala il debutto tra i grandi al classe 2005 Marco delle Monache, convocato in extremis. Partito in controllo per il Pescara, anche se al 27esimo il Grosseto ha l'opportunità per dimezzare il distacco, Sorrentino atterra a Moscati, ma poi si riscatta subito dopo, respingendo il rigore dell'attaccante Grossetano, confermando le sue grandi qualità. Debutta anche Sanogo, il Pescara va vicino alla terza rete con i Janes in grosso e poi con una botta da fuori di Galano, ma il risultato non cambia, anche perché Sorrentino dice ancora no a Moscati. E alla fine il Defino si prende gli applausi del migliaio di tifosi che hanno sfidato la Champions. Il pensiero però va subito al campionato e alla insidiosa trasferta di domenica a Pontedera contro la sorpresa a Montevarchi. Grazie.